Io... boh, non ci ho capito niente. Buonasera, bentornati a questa nuova puntata del TGLBA, il programma che c'ha un assembramento di consonanti e manco Shimon Shevchik con la mascherina. Vediamo insieme quali sono state le notizie più importanti di questa settimana in Serie A. Lega Basket, facciamo un po' una cronistoria, una ricostruzione di tutto quello che è successo in settimana. Il 14, che era giovedì, giorno dopo l'ultimo TGLBA, è uscita la notizia che la Lega Basket pareva andare verso la direzione di un campionato A18 per la prossima stagione, con Torino e Ravenna in pole position per raggiungersi alle 17 dell'anno scorso e con il blocco della retrocessione. Secondo questo progetto, poi, ci dovevano essere due promosse e quindi la Serie A del 21-22, cioè dell'anno dopo, avrebbe dovuto essere a 20 squadre. L'obiettivo, a lungo termine, era quello di una Serie A a 14, cioè 18 più 2, 20, 14. I 15, poi, venerdì, c'è stata l'Assemblea di Lega, che ha deliberato più o meno questo nuovo format, con tanto di date, però, 27 settembre per il via del campionato e 29 agosto per il via della Supercoppa. Supercoppa, tra l'altro, ha 18 squadre, quindi tutte le squadre del campionato partecipano alla Supercoppa, 6 gironi da 3 squadre ciascuno. Il 16, cioè il giorno dopo, è uscita la notizia che, in realtà, in questo quadro, il tema del blocco delle retrocessioni in Lega non sarebbe neanche stato affrontato. Quindi, figuriamoci, proposto e ufficializzato e tutto il resto, come invece però era trapelato. Quindi sarebbe anche scongiurata la cosa delle 20 squadre nel 21-22. E sempre il 16 è uscita la notizia che i playoff sarebbero con tutte le serie al meglio delle 5, per risparmiare tempo perché la stagione regolare è a 34 giornate, fino a che poi, il 17, Gandini, intervistato proprio sul blocco delle retrocessioni, ha detto Inorridisco quando sento dire che il blocco ha una sola retrocessione permetterebbe di affrontare con meno ansia la stagione. E poi, Petrucci, sempre sullo stesso tema, non si torna indietro. Le promozioni e le retrocessioni rimarranno due. In tutto questo, a chiusura, domani, che sarebbe giovedì, ci sarà il Consiglio federale della FIP, che sarà chiamato proprio a valutare tutte queste proposte che nel frattempo sono arrivate dalla Lega Basket. E qui io mi vorrei collegare proprio al tema della copertina, perché per me, pensandoci bene, il vero problema del nostro basket è che è morto Tognazzi, perché se no, i Conte Mascetti, ma proprio capoclasse a vita, mega direttore della mega ditta, è proprio perfetto. Scusi, noi siamo in quattro, come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai come faldina, come antifurto, per esempio. Parere personale, visto che mi avete chiesto di esprimermi anche nelle notizie del TGLBA, alla fine di ogni notizia vi dico brevemente quello che penso io. Per me si sta proprio sbagliando l'approccio. Cioè non è che bisogna scegliere un numero che ci garba, tipo io sono nato in 24, quindi 24 squadre, oppure la mia nonna aveva 16 galline, quindi 16 squadre. Bisogna prima alzare la soglia dei prerequisiti economici per poter partecipare alla Serie A e dire, te squadra, ci arrivi qui a livello economico, te lo puoi permettere un campionato di Serie A intero senza nessun problema? Se sì, bene, sei dentro. Se no, fuori. Ciao. Alla fine di tutto il vaglio di tutte le squadre, si contano quelle che sono rimaste, che hanno superato la soglia del prerequisito economico e quello è il numero di squadre per la Serie A. Se soddisfari, se ne ripesca un'altra. Però prima bisogna valutare le squadre e poi trovare il numero. Non è che prima scegli il numero e poi vai a cercare le squadre. Idea mia. Torino. La Gazzetta dello Sport ha elencato i 10 punti che avrebbero Condizionale. Composto il ranking che avrebbe Condizionale. Eletto Torino come diciottesima squadra per il prossimo campionato. Cioè 17 squadre dell'anno scorso più una ripescata che sarebbe stata appunto Torino. Secondo la Gazzetta dello Sport il ranking è stato stilato in base a questi criteri. Posizione in classifica ne ha due nella scorsa stagione. Numero di stagioni giocate in Serie A. Equilibrio di bilancio e ricavi nel 18-19. Numero di residenti nel comune, infrastrutture cittadine, quindi aeroporti, ferrovie e roba varia, lodi o ricorsi al BAT, capienza del Palasport, città, capoluogo di regione o provincia, presenza di altri club in A nella stessa regione. Alla fine della fiera, su Ravenna e su tutte le altre, avrebbe Condizionale. Prevalso Torino. Cioè avrebbe Ricondizionale. Avuto più punti delle altre e sarebbe quindi la diciottesima del prossimo campionato. Parere personale, io non ho i dati per capire se questa lista è stata compilata bene oppure no. Cioè se sono stati inseriti i dati giusti e se quindi il totale, i punti finali delle squadre e delle varie città sono giuste. Però a livello di logica, a livello di organizzazione, quantomeno c'è un progetto dietro. C'è un'idea, non è che siamo andati così a sentimento. Per cui mi sentirei di dire che è stato fatto un buon lavoro. Motivo per cui mi aspetto una smentita colossale di tutta la storia, a brevissimo proprio. Coppe europee. Nell'assemblea di Lega di cui sopra sono emerse anche le ufficializzazioni per le squadre aventi diritto a iscriversi alle Coppe europee per la prossima stagione. Milano in Eurolega per via della licenza pluriennale, Virtus Bologna e Brescia in Eurocup, Sassari di nuovo licenza pluriennale, Fortitudo Bologna e Brindisi in Basketball Champions League. Pareri personali? Niente, che devo parere? Niente, qui, questo è un dato di fatto. Reggio Emilia, movimenti in società con Stefano Landi che si dimette dalla carica di consigliere e al suo posto viene nominato Alessandro Dallassalda che ricoprerà anche l'incarico di amministratore delegato. In più, dopo 11 stagioni consecutive, 2 da giocatore e 9 da direttore sportivo, Alessandro Frosini saluta la Reggiana non rinnovando il proprio contratto in scadenza il 30 giugno e sembrerebbe in bilico anche la posizione di Maurizio Buscaglia sulla panchina, anche se il coach per il momento rassicura circa la possibilità di rimanere. Parere personale? Meglio di Buscaglia al costo di Buscaglia? Non c'è nessuno. Stop. Discorso chiuso. Reier-Venezia. La Reier-Venezia ha trovato un accordo per il prolungamento del contratto 2-1 con Andrea De Nicolaou. Quindi De Nicolaou resterà alla Reier fino al 30 giugno 2022 con opzione di rinnovo per il 2023. Parere personale? Che vinca, che perda, che venga messa in quarantena, Venezia continua con il proprio progetto. Cioè ogni anno cerca di confermare il più possibile di quanto di buono ha fatto fino a quel momento e poi dopo pensa eventualmente ad aggiungere qualcosa per provare a migliorarsi. Non è che tutti gli anni si smonta, ogni cosa si ricomincia da capo. Se tutte le squadre avessero questo tipo di mentalità, probabilmente oggi la Serie A sarebbe un posto migliore. Virtus Bologna. Avudu Abbas è in cima alla lista dei desideri della Virtus. Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, difficilmente l'assalto bolognese al giocatore non sarà risolutivo. Parere personale? Se hai soldi per poter prendere Avudu Abbas, prendi Avudu Abbas. Poi però lo fai giocare, capito Milano? Dinamo Sassari, presidente Stefano Sardar, ha detto che io sappia, cito testuali parole, non abbiamo preso Adrian Banks. E fin qui ci sta. E che io sappia, continua, non lo stiamo neanche cercando. E su questo, invece, parere personale, impazzirei per vedere Adrian Banks allenato da Gianmarco Pozzecco, specie in un sistema come quello della Dinamo Sassari. Però è anche vero che Adrian Banks è la cosa più simile che abbiamo a una bandiera, soprattutto tra i giocatori stranieri, per l'epicasa Brindisi. Quindi mi dispiacerebbe molto se dovesse lasciare Brindisi, soprattutto in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione da giocatore. Olimpia Milano prosegue la trattativa con Malcom Delaney, che potrebbe essere il primo rinforzo sul perimetro, un giocatore anche in grado di dare una mano in cabina di regia al Ciacio Rodriguez, però per il momento la distanza economica tra domanda e offerta sarebbe ancora notevole, anche perché sul giocatore ci sono diversi altri colossi europei. Oltre a Malcom Delaney piace però anche Davide Moretti, figlio di Paolo, reduce da un'ottima stagione a Texas Tech, al quale l'Olimpia Milano avrebbe offerto un biennale con opzione per il terzo anno. Parere personale, dovesse arrivare Davide Moretti bene per Milano, non proprio benissimo per Davide Moretti, che penso che in questo momento avrebbe più che altro bisogno di giocare, di stare in campo. E so che Paolo lo sa, perché ho avuto l'onore di essere allenato un anno in una stagione da Paolo Moretti, quando aveva iniziato la carriera da allenatore nelle giovanili della Virtus Siena, e quindi... niente, volevo rimembrare un attimo la mia vecchiaia. Virtus Roma, dopo 20 anni tondi di impegno nella pallacanestro, Claudio Totti annuncia il proprio disimpegno dalla Virtus Roma. È una decisione sofferta, dice, ma non me la sento più di andare avanti. Sembrerebbe esserci un'azienda interessata ad acquistare la Virtus, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ma la clausola è che poi la stessa proprietà, la stessa nuova proprietà, si debba impegnare a lasciare la squadra nella capitale. Parere personale, Totti ha dei difetti, ha preso delle decisioni sbagliate, ma trovare un altro Claudio Totti con la stessa perseveranza e la stessa passione che ci ha messo lui in tutti questi anni, non è poi così facile. Anzi. In chiusura, Pesaro. Ario Costa, presidente della VL Pesaro, ha parlato alla Gazzetta dello Sport e ha detto, non siamo in difficoltà. La società è in salute e a norma, ma da persona seria e responsabile mi pongo il problema. Vale la pena? Punto interrogativo. Pesaro ha tempo fino al 15 di giugno per decidere se scendere di categoria oppure no. Nel frattempo, Costa ha anche ufficializzato all'arrivo di Proli come consulente per il restyling di tutta la società. Grazie. 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 Grazie.